Oggi è il giorno dell'ultimo confronto, governo, parti sociali, sullo spinoso tema della riforma del lavoro ed è ovvio pensare che gli animi di leader di partito, sindacato e lavoratori continueranno ad essere accesi anche per le prossime ore quando potrebbero profilarsi scioperi, nuove proteste, dibattiti privati, pubblici, televisivi, tensioni che di certo alimentano quel clima di depressione che sta investendo migliaia di disoccupati e precari ma che cercano nel confronto e nel dialogo se non altro una via di fuga. La crisi economica, il lavoro, argomenti che tratteremo con un graditissimo ospite in apertura del nostro spazio di approfondimento dicevo la crisi economica e il lavoro che manca e che si perde dall'oggi al domani senza neppure accorgersene sono purtroppo anche le cause dell'escalation di suicidi che ormai si contano in Italia, uno al giorno tra i disoccupati secondo una ricerca condotta dall'Eures. Il fenomeno è terribile e allarmante ma secondo noi va gestito con molta responsabilità soprattutto da parte di chi fa informazione come noi interrogandosi una volta di più sulla inopportunità di dare enfasi o addirittura spazio a notizie che proprio perché recepite da personalità provate, molto provate potrebbero innescare reazioni a catena. Insomma la vecchia regola dei suicidi che non si pubblicano secondo noi oggi dovrebbe valere ancora di più perché se l'ambito è quello dello sfacelo economico che sta colpendo lavoratori ed imprenditori si tratta di un ambito vastissimo e pericolosissimo in cui è giusto muoversi con le dovute cautele. Buono e giusto sarebbe preferire un'azione costruttiva ad ogni titolo o articolo da destinare ad un suicidio, magari lavorando con le istituzioni, le associazioni professionali per offrire preventivamente risposte a chi si interroga sull'utilità di vivere, di andare avanti e di lottare per raccontare magari nuove opportunità che sono possibili e magari rimpinguare quell'ambito così scarno di good news dei nostri notiziari, le buone notizie o dei nostri giornali che all'informazione a conti fatti piacciono davvero poco e che farebbero invece tanto bene soprattutto a chi ha bisogno di credere che una possibilità ci può essere sempre oltre le ingiustizie subite, l'inesistenza di risorse e di aiuti, le enormi difficoltà affrontate ogni giorno per tirare avanti e che soprattutto servono a ricordare a tutti, a tutti noi, che la vita deve essere sempre difesa, sempre, comunque, sopra ogni cosa, lottando e non dandosi mai per viti.